Il problema dell'ontologia In questo libro unico e introduttivo, Rosmini esplicita l'importanza dell'ontologia a partire dal fatto che essa, pur avendo relazioni con la teologia razionale, la cosmologia e l'ideologia, debba distinguersi e debba premettersi allo studio della teologia razionale e della cosmologia. L'ontologia, infatti, dimostra che essendo l'essere assoluto al di là della natura finita, l'uomo che appartiene a questa natura finita e che non ha altro mezzo che la percezione sua propria per mettersi in comunicazione con reali e direttamente conoscerli, la quale non uscendo dalla natura non può apprendere l'essere divino, l'uomo dico limitato e così scarso mezzo da apprendere il reale, non può, per una via diretta e positiva, arrivare alla cognizione di Dio, nel quale solo si contiene tutto l'essere e nella cognizione del quale si comprende l'intera cognizione dell'essere. L'ontologia, poi, deve essere premessa anche alla cosmologia, che tratta del sussistente finito, perché è necessaria la cognizione perfetta di quell'ente finito. L'ontologia, inoltre, detiene uno stretto rapporto anche con l'ideologia, sebbene vi siano delle differenze fra queste due scienze per quanto concerne la materia. L'ideologia, infatti, tratta dell'origine e della natura delle idee, e però dell'essere come prima ed assoluta idea, nella quale tutte le altre si contengono. L'ontologia tratta delle essenze contenute nelle idee. L'ontologia, infine, differisce per la materia trattata anche dalla teologia razionale, sebbene entrambe possano essere definite teorie dell'essere, ma in differente modo. L'ontologia è la teoria dell'essere comune, ossia quella che precede nell'ordine della mente umana, la quale non può pensare il singolare se non per mezzo dell'universale. La teologia razionale è la teoria dell'essere proprio, che è Dio stesso. Si delinea quindi chiaramente il compito di chi si dedica seriamente all'ontologia, che è quello di dare una teoria dell'essere nella sua universalità, senza fare ancora distinzione se sia finito o infinito. Di dare, cioè, quelle proprietà e leggi dell'essere che si avverano in ogni ente, tanto finito quanto infinito. Questo è il problema, ma enunciato in un modo ancora più astratto. Non si può accenderci prudentemente a risolverlo, se non dopo averlo considerato nelle diverse forme che gli va prendendo nella mente umana. Rosmini enumera le note cinque forme che assume il problema ontologico, la cui soluzione verrà guadagnata nel proseguio dell'indagine. 1. Conciliare i modi apparenti dell'ente con il concetto di essere. 2. Trovare la ragione sufficiente delle diverse manifestazioni dell'ente. 3. Trovare un'equazione fra la cognizione intuitiva e quella di predicazione. 4. Conciliare le antinomie che appaiono nel pensiero umano. 5. Definire che cosa sia ente e che cosa sia non ente. Rosmini chiarisce che l'ontologia, se adeguatamente intesa, gode di un cominciamento logico riscontrabile nei guadagni conseguiti dalle scienze ideologiche, che, come si è detto, hanno preceduto l'indagine ontologica preparandone il campo. Le scienze ideologiche, infatti, hanno evidenziato che tutto il pensiero umano dipende da due elementi che hanno la caratteristica di essere sia primitivi che immediati, e sono l'essere ideale, che è intuito per natura dall'intelligenza umana e che gode di quell'evidenza consistente nella necessità logica, tale per cui la mente che lo intuisce vede essere impossibile che egli sia diverso da quello che apparisce, e il sentimento, che è noto per l'atto della percezione, la quale non ammette errore. Quindi è possibile concludere dicendo che abbiamo un punto fermo da cui cominciare l'ontologia, l'idea dell'essere e il sentimento, ed abbiamo un mezzo per il quale da questo punto fermo possiamo muovere spingendoci a sempre nuove cognizioni, l'essere ideale, l'essenza dell'essere. Sulta altresì evidente che il meccanismo dell'argomentare che si usa in ontologia consiste in un continuo confronto che la riflessione fa tra gli enti finiti percepiti e l'essere che sta presente alla mente, benché in modo indeterminato. L'intero procedimento poggia su alcuni principi saldi, ossia il principio di non contraddizione e il principio di identità, che come Rosmini aveva già dimostrato al nuovo saggio, dipendono strettamente dal principio di cognizione, cioè oggetto del pensiero è l'essere. Il ragionamento ontologico, che come si è visto presenta una dinamica circolare nel suo porsi, viene sviluppato nel contesto dello sviluppo di problematiche strettamente connesse e allo stesso tempo distinguibili per contenuti della trattazione stessa. I tre libri che costituiscono la trattazione ontologica, il trittico dell'ontologia, cioè le categorie, l'essere uno e l'essere trino, sono posti da Rosmini in tale successione, proprio in virtù dei contenuti che si presentano al pensiero umano. Infatti, scrive Rosmini, poiché è quello che prima si presenta all'umano pensiero la molteplicità degli enti sensibili, egli è necessario di muovere il ragionamento da questa moltitudine di sensibili, investigando un ordine in essa, la quale ricerca ci reca ad invenire le ultime classi delle differenze che hanno i molteplici enti ed entità fra di loro. E queste differenze classificate ci recano alle tre categorie e queste alle tre supreme forme dell'essere e queste all'essere stesso. Prima di iniziare questo complesso e fruttuoso lavoro, che si realizza percorrendo i libri che costituiscono la teosofia, è necessario apprendere ancora alcuni elementi riguardanti la scienza che li accomuna, ossia l'ontologia. Essa, infatti, può essere considerata in questo modo. Un'ontologia universale e speciale. Qual è l'ontologia universale? È quella scienza che tratta dell'essere in tutta la sua possibilità e può essere intesa come la teoria dell'essere nell'idea, cioè come la teoria dell'essere come risulta conoscibile all'uomo nell'idea. Cosa si intende per un'ontologia speciale? È la teoria dell'essere idea. Nell'ontologia speciale bisogna poi considerare la forma oggettiva dell'essere, distinguendo una forma oggettiva ideale, ossia la forma imperfetta posseduta dall'uomo, e una forma oggettiva assoluta, che è propria di Dio. Da questo schema si evince che il compito dell'ontologia universale è quello di considerare l'essere stesso in qualunque sua forma. L'essere, scrive Rosmini, sotto qualunque sia forma, si considera a quel modo che a noi lo mostra l'idea, senza che l'idea stessa diventi esclusivo e speciale oggetto della scienza. L'idea che è per l'uomo il mezzo universale del conoscere, per quanto imperfetto, ha il limite di considerare l'essere soltanto come possibile. E il conoscere l'essere, beh che in tutte le sue forme soltanto come possibile, non è conoscere pienamente l'essere, il quale anche sussiste, ed è pur vero che sia l'ontologia universale che quella speciale trattano di tutto l'essere, sì che tutte e due le parti sono fondamentali. Ma nel momento in cui il ragionamento si pone a considerare non l'essere come viene concepito nell'idea, ma come deve sussistere in sé medesimo, benché l'uomo non concepisca così, allora sapra la scienza dell'essere supremo ed assoluto, dell'ente e degli enti, cioè se entra nella teologia. E allora l'ontologia può essere anche intesa come sorta di grande prefazione alla teologia.